Gli assassini della rue Morgue di Edgar Allan Poe Traduzione di Delfino Cinelli Il canto che cantavano le sirene Il nome che assunse Achille quando si nascose fra le donne Per difficili che siano non sono questioni al di là di ogni congettura Sir Thomas Brownie Le facoltà mentali che si sogliono chiamare analitiche Sono di per sé stesse poco suscettibili di analisi Le conosciamo soltanto negli effetti Fra l'altro sappiamo che per chi le possiede al più alto grado Sono sorgente del più vivo godimento Come l'uomo forte gode della sua potenza fisica E si compiace degli esercizi che mettono in azione i suoi muscoli Così l'analista si gloria di quell'attività spirituale che serve a risolvere E trova piacere anche nelle occupazioni più comuni Purché diano gioco al suo talento Così gli piacciono gli enigmi, i rebus, i geroglifici E nelle soluzioni dimostra una cume che al discernimento volgare appare soprannaturale E i risultati abilmente dedotti dalla stessa essenza e anima del suo metodo Hanno veramente tutta l'aria dell'intuito La facoltà di risolvere è probabilmente molto rinforzata Dallo studio delle matematiche E in modo particolare dell'altissimo ramo di questa scienza Che impropriamente e solo in ragione delle sue operazioni in senso retrogrado È chiamata analisi Come se fosse proprio l'analisi per eccellenza Tuttavia il calcolo non è in se stesso un'analisi Un giocatore di scacchi, per esempio, fa l'uno senza perdersi con l'altra Ne viene di conseguenza che riguardo ai suoi effetti sul carattere mentale Il gioco degli scacchi è di solito sopravvalutato e di molto Io non sto scrivendo un trattato Ma semplicemente pongo di prefazione a un racconto piuttosto singolare Alcune mie osservazioni prese alla rinfusa Approfitto dunque dell'occasione per asserire che il massimo potere della riflessione È più decisamente e utilmente provato nel modesto gioco della dama Che non dalla complicata futilità degli scacchi In quest'ultimo, essendo i pezzi dotati di movimenti diversi e bizzarri E di valori diversi e variabili Quello che è soltanto complessità Viene preso, errore abbastanza comune Per profondità L'attenzione, sì, è messa in gioco moltissimo E se per un momento si allenta Si commette una svista che risulta in una perdita O nella disfatta Essendo i movimenti possibili oltre che vari involuti Le occasioni di quelle sviste ne vengono complicate E in nove casi su dieci Non è il giocatore più acuto Ma il più concentrato che vince Nel gioco della dama, al contrario Nel quale la mossa è una sola E non subisce che poche variazioni Le probabilità di inavvertenze sono minori E l'attenzione del giocatore relativamente libera Per cui i vantaggi riportati da questo o quel contendente Si ottengono grazie a una perspicacia superiore Per essere meno astratti Supponiamo un gioco di dama Nel quale i pezzi siano ridotti a quattro sole dame E nel quale naturalmente non si suppongano sviste È ovvio che Essendo le parti assolutamente uguali La vittoria non può essere decisa Che per qualche abile mossa Dovuta a uno sforzo potente della mente Privato delle sue risorse ordinarie L'analista penetra nell'animo del suo avversario Si identifica con esso E non di rado scopre a colpo d'occhio L'unico metodo possibile Metodo talvolta di un'assurda semplicità Per attirarlo in un tranello O farlo cadere in un calcolo sbagliato Da tempo il gioco del Wist è stato rammentato Per la sua azione sulla facoltà del calcolo Si sa di uomini del più alto grado di intelletto Che vi prendevano un piacere In apparenza incomprensibile Mentre evitavano come troppo frivoli Gli scacchi E di fatti non vi è nulla che metta alla prova La facoltà dell'analisi Come questo gioco Il miglior giocatore di scacchi della cristianità Può essere poco di più Che il miglior giocatore di scacchi Laddove esser forte nel gioco del Wist Significa possedere la capacità di riuscire In tutte quelle imprese ben altrimenti importanti Nelle quali una mente si trovi a combattere con un'altra E dicendo essere forti Ho voluto alludere a quella perfezione nel gioco Che implica l'intendimento di tutte le sorgenti Dalle quali possono derivare vantaggi legittimi I quali sono non solo diversi Ma complessi E spesso si nascondono in recessi del pensiero Assolutamente inaccessibili al ragionamento comune Osservare attentamente Vuol dire ricordarsi distintamente Sotto questo punto di vista Il giocatore di scacchi Che ha potere di concentrazione Sarà un buon giocatore di Wist Poiché le regole di Hoyle Anch'esse basate sul semplice meccanismo del gioco Sono sufficientemente e generalmente intellegibili Così Aver buona memoria E procedere secondo le regole del manuale È quanto di solito si considera bastevole A giocare bene Ma ci sono casi Che non rientrano nei limiti delle regole comuni E allora si manifesta l'abilità dell'analista Questi fa in silenzio Le sue numerose osservazioni e deduzioni Lo stesso fanno forse i suoi compagni E la differenza nella estensione Nella estensione delle nozioni così acquisite Non sta nella validità della deduzione Quanto nella qualità dell'osservazione L'importante è sapere che cosa osservare Il nostro giocatore non conosce limiti Né, per quanto il gioco sia il suo oggetto Disprezza le deduzioni che provengono da cose estranee al gioco Egli esamina la fisionomia del compagno Paragonandola accuratamente con quella di ciascuno dei suoi avversari Considera il modo col quale ognuno dispone in mano le sue carte Spesso, grazie agli sguardi che i giocatori danno alle carte Riesce a contare punto per punto quello che hanno in mano Tien conto, a mano a mano che il gioco va avanti Di ogni cambiamento di fisionomia E dalle varie espressioni di certezza, di sorpresa, di trionfo o di disperazione Fa raccolta di mille pensieri Dal modo di fare una presa Indovina se la stessa persona abbia di che farne un'altra durante la partita Riconosce se una carta è giocata per fare una finta Da come viene posata sul tavolino Una parola casuale, involontaria Una carta che cade o si rovescia per caso Se viene raccolta con ansia o con non curanza di nasconderla Il conto delle alzate e l'ordine nel quale si succedono L'imbarazzo, l'esitazione, la prontezza, la trepidazione Tutto, insomma, per la sua capacità in apparenza intuitiva di percezione Tutto serve a denotare il vero stato delle cose Così, dopo i primi due o tre giri Egli è padrone del gioco di ognuno E butta ogni carta con perfetta cognizione di causa Proprio come se gli altri giocatori avessero scoperte le loro La facoltà di analisi non deve essere confusa con la semplice ingegnosità Mentre l'analista è necessariamente ingegnoso L'uomo ingegnoso è spesso refrattario all'analisi La facoltà costruttiva o di combinare Per mezzo della quale l'ingegnosità si manifesta in genere E alla quale i frenologi, secondo me a torto Assegnano un organo a parte Supponendola una facoltà primordiale Si è così di frequente riscontrata in esseri La cui intelligenza confinava con l'idiozia Da attirare l'attenzione generale degli scrittori di psicologia Fra l'ingegnosità e la capacità analitica Vi è in realtà una differenza assai più grande Che fra la fantasia e l'immaginazione E però di un carattere strettamente analogo Per cui si troverà che l'uomo ingegnoso È sempre ricco di fantasia Ma che l'uomo veramente di immaginazione Non può essere che un analista Ed ecco ora un racconto Che potrà apparire al lettore quasi in luce di commento Alle proposizioni teoriche qui sopra enunciate Nel passare a Parigi la primavera E buona parte dell'estate dell'anno 1800 Feci la conoscenza D'un certo Monsieur C. Augustin Dupin Era questo giovane gentiluomo Di buona, anzi illustre famiglia A dir vero Ma per una serie di disgrazie Si era trovato ridotto in tale povertà Da perdere tutta l'energia del suo carattere E da abbandonare ogni cura e faccenda mondana Cheppur avrebbero potuto condurlo A ricostruire la sua fortuna Per bontà dei suoi creditori Rimase in possesso di un piccolo resto del patrimonio Con la rendita del quale Riusciva, mediante una rigorosa economia A provvedere alle necessità essenziali del vivere Il solo suo lusso Erano i libri Che a Parigi sono facili a procurarsi Il nostro primo incontro Ebbe luogo in uno scuro gabinetto di lettura Della Rue Montmartre La coincidenza di ricercare Ambe due lo stesso libro Molto raro e importante Ci avvicinò Da allora ci vedemmo sempre più spesso Fui profondamente interessato Alla sua breve storia di famiglia Che egli mi raccontò Particolare per particolare Con quel candore Alla quale si abbandonano i francesi Quando parlano di loro stessi Rimasi anche sorpreso Dalla vastità delle sue letture Ma soprattutto Mi sentì l'animo riscaldato Dal bizzarro fervore E dalla freschezza piena di vita Della sua immaginazione Dato l'oggetto delle mie ricerche a Parigi Capì che la società di simile uomo Sarebbe stata per me Un tesoro inestimabile E di questo Con tutta franchezza Mi aprì a lui Finimmo per decidere Che per il tempo del mio soggiorno a Parigi Avremmo vissuto insieme E siccome i miei affari Erano un po' meno imbrogliati dei suoi Mi fu permesso a mie spese Di prendere in affitto Ed immobiliare In uno stile adatto Alla fantasiosa malinconia comune Ai nostri temperamenti Una bizzarra casetta Tutta guasta dal tempo Ed anni abbandonata Per certe superstizioni Che non ci curammo di indagare Essa finiva di cadere In rovina In una parte remota e solitaria Del Faubourg Saint-Germain Se l'andamento della nostra vita In quel posto Fosse stato a conoscenza del mondo Ci avrebbero presi per due pazzi Sebbene forse Per due pazzi di natura inoffensiva La nostra reclusione era completa Non ammettevamo visite Avevamo anzi tenuto segreto Il ricovero Alle mie conoscenze di prima Quanto a Dupin Egli aveva da molti anni Cessato di frequentare gente E non era più conosciuto a Parigi Esistevamo per noi soli Il mio amico aveva una bizzarria Come si potrebbe infatti chiamarla Altrimenti Egli era cioè Innamorato della notte E in questa sua strana passione Come in tutte le altre Mi lasciai trascinare tranquillamente anch'io Già che mi davo ai suoi strambi capricci Col più completo abbandono La nera divinità Non poteva essere sempre con noi Ma potevamo pur sempre Farcene una posticcia Al primo chiarore dell'alba Serravamo tutti i pesanti scuri Della vecchia casa E accendevamo due fiaccole Fortemente profumate Le quali mandavano una luce Debolissima Spettrale A quel fievole chiarore Abbandonavamo l'anima ai sogni Leggendo, scrivendo o conversando Sino a quando l'orologio Non ci avvertiva del ritorno Della vera oscurità Allora ci mettevamo a percorrere Le vie L'uno sotto braccio all'altro Continuando la conversazione del giorno Vagabondando a caso Fino a ora avanzata Cercando in mezzo alle luci e ombre Della popolosa città Quegli innumerevoli eccitanti dello spirito Che può dare l'osservazione spassionata In quei casi non potevo fare a meno Di osservare e di ammirare Quantunque la sua ricca idealità Avrebbe dovuto prepararmivi La particolare attitudine analitica Del mio amico Egli sembrava trovare Un fervido gusto ad esercitarla Se non proprio a metterla in mostra E non esitava a confessarlo Con un riso sordo interiore Si vantava con me Del fatto che quasi tutti per lui Avessero una finestra Aperta nel petto E accompagnava ordinariamente Le sue osservazioni Con prove dirette e sorprendenti Di quanto a fondo Conoscesse me stesso In quei momenti Il suo modo di fare Era freddo e distratto I suoi occhi fissavano il vuoto E la sua bella voce da tenore Saliva ad un tono di testa Che sarebbe apparso petulante Senza la deliberatezza E la chiarezza assoluta Dell'addizione Osservandolo allora Mi capitava spesso Di soffermarmi a meditare Sulla vecchia filosofia Dell'anima doppia E mi divertivo all'idea Di un doppio Dupin Di un Dupin creatore E un Dupin analista Da quanto ho detto Non si immagine che io Stia per svelare un mistero O per scrivere un romanzo Quello che ho descritto Era in questo singolare francese Semplicemente il risultato Di un'intelligenza sovraeccitata Forse malata Ma un esempio Darà meglio l'idea Del carattere delle sue osservazioni Durante quei momenti Una notte passavamo Per una lunga e sordida strada Nelle vicinanze del Palais Royal Immersi ciascuno Nei propri pensieri Dalmeno un quarto d'ora Non avevamo pronunciato sillaba Ad un tratto Dupin Venne fuori con queste parole È molto molto piccolo È proprio vero Starebbe meglio Al théâtre de varieté Non ci può essere Il minimo dubbio Replicai Senza pensare E senza sulle prime Osservare Tanto era assorto Nelle mie riflessioni Il modo straordinario Con cui le sue parole Si adattavano Ai miei pensieri Un momento dopo Tornato in me Fui profondamente stupefatto Dupin Gli disse gravemente Questo sorpassa Il mio intendimento Non esito a confessarvi Il mio stupore Riesco appena A credere a me stesso Come avete fatto A indovinare Che stavo pensando a E mi fermai Per assicurarmi Al di là di ogni dubbio Se veramente sapeva A chi pensavo A Chantilly Disse lui Perché vi interrompete Non stavate pensando Che la sua piccola statura Lo rende inadatto Alla tragedia Tale era precisamente Il soggetto Delle mie riflessioni Chantilly Era un ex ciabattino Della che Andava matto Per il teatro E aveva voluto Recitare La parte di Cerse Nella tragedia Di Crebillon Ma in premio Delle sue fatiche Non aveva avuto Che beffe Per l'amor di Dio Esclamai Ditemi il metodo Se un metodo esiste Col quale siete riuscito A penetrare Nell'anima mia In questo modo In verità Io Ero anche più stupito Di quanto Non fossi disposto A confessare È stato il fruttivendolo Rispose il mio amico A farvi concludere Che il ciabattino Non ha la statura Adatta per recitare La parte di Cerse Et ingenius omne Il fruttivendolo Voi mi stupite Io non conosco Fruttivendoli di sorta E l'uomo Che ha ortato Contro di voi Quando siete entrati In questa via Sarà un quarto d'ora Mi ricordai allora Che infatti Nel passare Dalla ruse All'arteria principale In cui ci trovavamo In quel momento Un fruttivendolo Con un gran canestro Di mele sul capo Mi aveva Urtandomi Quasi buttato Per terra Ma che rapporto Avesse questo fatto Con Chantilly Non riuscivo a capire In nessun modo Nel mio amico Dupin Non vi era La più lontana Traccia Di ciarlataneria Vi spiegherò La cosa Disse allora E perché Possiate comprendere Tutto chiaramente Riprendiamo In primo luogo Il cammino Delle vostre Riflessioni Dal momento In cui vi ho parlato Sino all'incontro Del fruttivendolo Gli anelli principali Di questa catena Di pensieri Sono Chantilly Orione Il dottor Nichols Epicuro La stereotomia Le lastre Da selciato E il fruttivendolo Sono rari Coloro che In qualche momento Della loro vita Non si siano divertiti A risalire I gradini Per i quali Certe conclusioni Della loro mente Erano state raggiunte E' un'occupazione Che riesce Spesso Interessantissima E chi fa la prova Per la prima volta Rimane stupito Dell'incoerenza E della distanza Inapparenza Incommensurabile Fra il punto di partenza E la meta Si giudichi quindi Del mio stupore Alle parole di Dupin Quando fui costretto A riconoscere Che aveva detto La pura verità Allora ripresa Se la memoria Non mi inganna Proprio prima Di lasciare La riusse Si parlava Di cavalli Questo è stato L'ultimo soggetto Della nostra conversazione Entrati poi In questa strada Un fruttivendolo Con un grande canestro Sul capo Passandoci Velocemente Accanto Vi ha fatto andare Contro un mucchio Di sassi In un punto Dove si stava Riparando Il selciato Della strada Avete messo il piede Su una pietra Siete scivolato E vi siete slogato Leggermente la caviglia Avete fatto L'aria seccata Imbronciata Avete anche Borbottato Qualche parola Poi vi siete voltato Per guardare Il mucchio Di sassi E silenziosamente Avete ripreso La vostra strada Io non ero Particolarmente Attento A quello Che facevate Ma per me Ultimamente L'osservazione È diventata Una specie Di necessità Avete tenuto Lo sguardo Fisso A terra Esaminando Con espressione Irritata Le buche E le rotaie Del selciato Per cui si vedeva Che pensavate Sempre alle lastre Fino a che Non siamo arrivati Al vicoletto Detto Lamartin Che è stato Pavimentato Per fare una prova Con un sistema Nuovo Di blocchi Incastrati Ed inchiodati Nota 1 Avverte Baudelaire Nella sua traduzione Che Pau Non era mai stato A Parigi E che I nomi di strade E piazze Sono parti Della sua fantasia Nota del traduttore A questo punto La vostra fisionomia Si è rischiarata E al vedervi Muovere le labbra Non potevo Dubitare Che stavate Mormorando La parola Stereotomia Termine Che molto Pretenziosamente Si è voluto Applicare A questo genere Di pavimentazione Io poi Sapevo Che non avreste Potuto dire Fra voi Stereotomia Senza essere Richiamato Col pensiero Agli atomi E da questi Alle teorie D'epicuro E poiché Nella conversazione Che avemmo Su questo soggetto Non molto tempo fa Io vi avevo Fatto osservare Come le vaghe Induzioni Dell'illustre greco Erano state Singolarmente Confermate Senza che nessuno Vi badasse Dalle ultime teorie Sulle nebulose E dalle recenti Scoperte cosmogoniche Sentivo Che non avreste Potuto fare a meno Di alzare Gli occhi Verso la grande Nebulosa Dio Orione Lo prevedevo Con tutta certezza Difatti Avete guardato In su E allora Mi sono sentito Sicuro Di aver seguito Senza errore I vostri passi Ora In quel feroce Attacco a Chantilly Comparso Nel musee Di ieri Il satirico Scrittore Facendo Una sguaiata Allusione Al cambiamento Di nome Del ciabattino Quando ha calzato Il coturno Citava Un verso latino Del quale Abbiamo spesso Parlato Voglio dire Il verso Perditi Tanticum Littera Prima Sonum Vi avevo detto Che questo verso Si riferisce A Orione Che prima Si diceva Urione E a causa Di una certa Accredine Che misi In quella Spiegazione Ero sicuro Che non l'avevate Potuta dimenticare Era dunque Chiaro Che avreste Associato L'idea Di Orione A quella Di Chantilly Che lo avete fatto L'ho visto Dalla specie Di sorriso Che vi è passato Sulle labbra Avete pensato All'immolazione Del povero Ciabattino Sino allora Eravate Piuttosto curvo Nel camminare Ma in quel punto Vi siete Radrizzato Tutto Allora Sono stato Sicuro Che pensavate Alla piccola Statura Di Chantilly In quel momento Ho interrotto Le vostre Riflessioni Per osservare Che Chantilly Era proprio Piccolo Molto Piccolo E che sarebbe Stato meglio Al Teatro De Varieté Non molto Tempo dopo Questa conversazione Stavamo Guardando insieme L'edizione Della sera Della Gazette De Tribunaux Quando La nostra Attenzione Fu colpita Dai seguenti Paragrafi Singolarissimi Assassini Stamane Verso le tre Gli abitanti Del quartiere San Roc Furono svegliati Da una serie Di grida Spaventevoli Che parevano Venire Dal quarto piano Di una casa Della rue Morgue Che si sapeva Interamente Occupata Da una tale Madame L'Espanier E da sua figlia Mademoiselle Camille L'Espanier Dopo qualche Ritardo Causato Da prove Infruttuose Per farsi Aprire Normalmente Fu scardinato Il portone E otto Dieci Vicini Accompagnati Da due Gendarme Penetrarono Nella casa Intanto Le grida Erano cessate Ma nel Mentre La gente Correva su Per la prima Branca Di scale Vennero Distinte Due O più Voci Rudy Di accento Che disputavano Acerbamente E sembravano Provenire Dalla parte Superiore Della casa Quando si arrivò Al secondo Pianerottolo Anche questi Rumori Erano cessati E tutto Era perfettamente Tranquillo I vicini Si sparsero Frettolosamente Di stanza In stanza Giunti In una vasta Camera Situata Sul di dietro Al quarto Piano Della quale Si dovette Forzare La porta Perché era Chiusa A chiave Internamente Si presentò Uno spettacolo Che colpì I presenti Di terrore E di meraviglia Insieme La stanza Era nel più Grande disordine I mobili Spezzati E sparsi In tutte le direzioni Vi era un letto I materassi Del quale Erano stati Tolti E gettati Nel mezzo Dell'impiantito Su una sedia Giaceva Un rasoio Intinto Di sangue Sul camino Due o tre Lunghe Grosse Trecce Di capelli Grigi Che sembravano Essere strappate Violentemente Dalle radici Sul pavimento Si trovarono Quattro Napoleoni D'oro Un orecchino Di topazio Tre cucchiai D'argento Tre più piccoli Di metallo D'algeri E due sacchetti Contenenti Circa Quattromila Franchi In oro I tiretti Di un cassettone In un canto Erano spalancati E quantunque Vi si trovassero Ancora molti oggetti Apparivano Saccheggiati Sotto i materassi Non sotto il letto Fu trovata Una piccola Cassaforte Di ferro Era aperta Con la chiave Ancora Nella serratura Non conteneva Che poche vecchie lettere E carte Senza importanza Nessuna traccia Di Madame L'Espanier Si osservò Però Una quantità Insolita Di fuligine Sul focolare Allora Si cercò Nel camino E Orribile A dirsi Ne fu trovato Il cadavere Della figlia Che era stato Spinto Con la testa In giù A viva forza Fino a un bel tratto Della stretta apertura Il corpo Era ancora caldo Esaminandolo Si scoprirono Numerose escoriazioni Causate Senza dubbio Dalla violenza Con la quale Era stato Cacciato su Per la canna E ne era stato Ritirato Sulla faccia Erano Graffi profondi E sulla gola Nere Liviture Forti Tracce di unghie Come se la morte Fosse avvenuta Per strangolamento Dopo una minuziosa Investigazione Di ogni parte Della casa Che non portò A scoprire Nulla Di nuovo I vicini Entrarono In un cortiletto Selciato Situato Sul dietro Dello stabile E in esso Trovarono Il cadavere Della vecchia signora Con la gola Così Perfettamente Tagliata Che quando si provò A sollevarlo Il capo Si staccò Completamente Dal busto Sia il corpo Che la testa Apparivano Spaventosamente Mutilati Ed era appena Se conservavano Aspetto Umano In questo Orribile Mistero Per quanto Ci consta Non è stato Ancora scoperto Il minimo Indizio Che possa portare A una spiegazione Il giornale Dell'Indomani Recava Questi altri Particolari La tragedia Della Rue Morgue Molti individui Sono stati interrogati Relativamente A questo Orribile E straordinario Avvenimento Ma nulla È ancora Risultato Che possa Far luce Sul mistero Diamo qui sotto Le deposizioni Ottenute Pauline Duborg Lavandaia Depone Che conosceva Le due vittime Da tre anni Durante Il qual tempo Ha sempre fatto Il loro bucato La vecchia signora E sua figlia Sembravano andare Di buonissimo accordo Erano Affezionatissime L'una All'altra Erano Buone clienti Pagavano bene Relativamente Al loro genere Di vita E ai loro mezzi Non può dire nulla Crede Che Madame L'Espanier Per vivere Dicesse La buona fortuna Però Aveva fama Di possedere Del denaro Non ha mai Incontrato Nessuno In casa Quando veniva A riportare O a prendere La biancheria Era sicura Che le L'Espanier Non avevano Persone Di servizio Pareva che Di tutta la casa Solamente il quarto piano Fosse abitato Pierre Moreau Tabaccaio Depone Di aver fornito Abitualmente Piccole quantità Di tabacco Anche da fiuto A Madame L'Espanier Per quasi Quattro anni È nato Nel quartiere E vi ha sempre Dimorato La defunta E la sua figlia Occupavano Da oltre Sei anni La casa Nella quale Furono ritrovate Cadaveri Prima Vi aveva Abitato Un gioielliere Che subaffittava Gli appartamenti Superiori A varie persone La casa Era di proprietà Di Madame L'Espanier Questa Si era stancata Del modo Col quale Il suo inquilino Abusava Dell'ambiente E vi era venuta Ad abitare Lei stessa Rifiutando Di affittarne Anche una parte La vecchia signora Era rimbambita Il teste Aveva veduto La figlia Cinque o sei volte Nei sei anni Conducevano Una vita Ritiratissima Ma pareva Che fossero Ben provviste Di mezzi Aveva sentito Dire dai vicini Che Madame Elle Diceva La buona ventura Ma non lo credeva Non aveva Veduto Varcar la soglia Di quella porta Che una O due volte Da un fattorino E otto o dieci volte Da un medico Parecchi altri Del vicinato Depongono Nello stesso senso E tutti affermano Che nessuno Frequentava la casa Se le due donne Avessero parenti Non si sa Gli scuri Delle finestre Sul davanti Si aprivano Di rado Quelli sul Di dietro Erano sempre Chiusi A eccezione Delle finestre Della grande camera Era al quarto piano La casa Era in buone condizioni E non troppo vecchia Isidoro Musée Gendarme Depone di essere Stato chiamato Verso le tre Del mattino Ed aver trovato Dinanzi al portone Venti o trenta persone Che cercavano Di entrare Ha forzato La porta Con una baionetta E non Con Grimaldelli L'ha aperta Facilmente Perché era A due battenti E non era Chiusa Chiavistello Né da capo Né da piedi Le grida Sono continuate Sino a quando Non fu forzato Il portone Poi A un tratto Sono cessate Si sarebbero dette Grida di una persona O diverse In preda Ai più atroci dolori Grida altissime E prolungate Non brevi E rapide Il teste È corso Per il primo Su per le scale Giunto al primo Pianerottolo Ha udito Due voci Che disputavano In tono alto E rabbioso Una Era una voce rude L'altra Era molto più acuta Di un timbro Singolarissimo Della prima Che era Di un francese Ha capito Qualche parola Era certo Che non era Una voce Di donna Ha potuto capire Le parole Sacre E diable La voce acuta Era di uno straniero Non poteva dire Se era D'uomo O di donna Non ha potuto capire Nulla Di quel che diceva Ma gli pareva Che fosse Spagnolo È stato poi Descritto Da questo teste Lo stato In cui furono Trovati La camera E i cadaveri Come abbiamo esposto Ieri Enrico Duval Un vicino Di professione Orefice Depone di essere Stato nel numero Di coloro Che per primi Sono entrati Nella casa Conferma In generale La testimonianza Di Musè Appena Introdottisi Nella casa Richiusero La porta Per impedire L'ingresso Alla folla Che malgrado L'ora notturna Aumentava Rapidamente Secondo Il teste La voce Acuta Era quella Di un italiano Era certo Che non era Francese Non poteva essere Sicuro Che fosse Voce di uomo Poteva essere Anche voce Di donna Il teste Non conosce La lingua italiana Non ha potuto Distinguere Le parole Ma dall'intonazione È convinto Che la voce Fosse di Un italiano Conosceva Madame L'Espanier E sua figlia Ha parlato Di frequente Con ambe due È sicuro Che la voce acuta Non apparteneva A nessuna Delle vittime Odenheimer Trattore Questo teste Si è offerto Spontaneamente Non parla francese E lo si è interrogato Per mezzo Di un interprete È nato Ad Amsterdam Al momento Delle grida Passava Davanti alla casa Sono durate Vari minuti Probabilmente Dieci Eran Grida Prolungate Altissime Spaventose E strazianti Egli si trovava Nel numero Di coloro Che entrarono Nello stabile Ha confermato La testimonianza Precedente In tutto Salvo In un punto È sicuro Che la voce Acuta Fosse maschile E di un francese Non ha potuto Distinguere Le parole Erano alte E rapide Inuguali Esprimevano Tanto la paura Quanto la collera La voce Era aspra Più aspra Che acuta Non può dire Che fosse Una voce Acuta La voce rude Ha ripetuto Più volte Sacré Diable E una volta Mon Dieu Jules Mignon Banchiere De la casa Mignon E fils Rue De Lorraine È il più vecchio Dei Mignot Madame L'Espanier Era benestante Aveva aperto Un conto corrente Con la sua casa Nella primavera Del Otto anni prima Faceva spesso Piccoli depositi Non ha mai Ritirato Nulla Sino a tre giorni Prima della morte Quando Ritirò Di persona La somma Di 4.000 Franchi La somma Era stata pagata In oro E un commesso Era stato incaricato Di portargliela A casa Adolphe Lebon Impiegato Del banco Mignon E fils Depone Che quel giorno Verso le 12 Accompagnò Madame L'Espanier Fino a casa Con 4.000 Franchi Divisi In due sacchetti All'aprirsi Della porta Apparve Mademoiselle L'Espanier E gli tolse di mano Uno dei sacchetti Mentre la vecchia signora Prendeva l'altro Egli S'inchinò E se ne andò Non vide nessuno Nella via Allora È una via fuori mano Molto solitaria William Bird Sarto Depone Di essere stato Di coloro Che entrarono In casa È inglese Vive a Parigi Da due anni Fu dei primi A salire le scale Udì Le voci Che disputavano La voce Rude Era di un francese Poté capire Qualche parola Ma ora Non si ricorda Di tutto Udì Distintamente Le parole Sacrè E Mon Dieu In quel momento Il rumore Era come di varie persone In lotta Un tramestio E uno scalpiccio La voce Acuta Era altissima Più alta Della rude È sicuro Che non era La voce Di un inglese Gli parve La voce Di un tedesco Può darsi Che fosse Una voce Di donna Il teste Non conosce Il tedesco Quattro Dei summentovati Testimoni Interrogati Di nuovo Hanno deposto Che la porta Della camera Nella quale Fu trovato Il corpo Di Madame Le Era chiusa Dalla parte Interna Quando arrivarono Tutto era In perfetto Silenzio Né gemiti Né rumori Di sorta Forzata La porta Non videro Nessuno Le finestre Tanto della stanza Sul di dietro Quanto di quella Sul davanti Erano chiuse Bene Assicurate Dal di dentro La porta di comunicazione Fra le due stanze Era chiusa Ma non a chiave La porta Che dalla camera Anteriore Dava sul corridoio Era chiusa A chiave Dal di dentro Una stanzetta Sul davanti Al quarto piano All'ingresso Del corridoio Era aperta E la porta Socchiusa Questa stanza Era in gombra Di letti vecchi Di scatole E di altri oggetti Che furono Tutti spostati E accuratamente Frugati Non si trascurò Di ispezionare Con attenzione Un solo pollice Della casa Si fecero Anche penetrare Gli spazzacamini Nelle canne Dei camini La casa La casa Ha quattro piani Con soffitte Mansard Una botola Che dà Sul tetto Era solidamente Inchiodata Non portava Segni Di essere Stata aperta Da anni I testi Non vanno D'accordo Sulla durata Del tempo Trascorso Fra il risuonare Delle grida E il momento In cui fu Sfondata La porta Alcuni Parlano Di due O tre minuti Altri di almeno Cinque La porta Fu aperta Con difficoltà Alfonso Garzio Impresario Di pompe funebri Depone Che abita Nella rue Morgue E' spagnolo Di origine Anche lui Era di quelli Che entrarono Nella casa Non ha salito Le scale E' nervoso E teme Le conseguenze Di una agitazione Ha udito Le voci Che disputavano Quella più Grossa Era di un Francese Non ha potuto Distinguere le parole Quella acuta Era di un Inglese Di questo è sicuro Non conosce L'inglese Ma giudica Dall'intonazione Alberto Montani Confettiere Depone di essere Stato Fra i primi A salire La scala Ha udito Le voci Quella rude Era di un In francese Distinse Varie parole Chi parlava Pareva far Rimostranze Non ha potuto Capire le parole Della voce Acuta Parlava rapidamente E a scatti Crede Che fosse La voce Di un Russo Conferma Le deposizioni Dei testimoni Precedenti Lui E' nato In Italia Non ha mai Parlato Con un russo Vari testi Nuovamente Interrogati Affermano Ora Che i Caminetti Di tutte Le stanze Del quarto piano Erano Troppo stretti Per dar passaggio A un essere umano Quando hanno Parlato di Spazzacamini Volevano Riferirsi A quelle Spazzole Cilindriche Speciali Di cui Si servono Gli Spazzacamini Queste Spazzole Furono Fatte Passare Dall'alto In basso In tutte Le canne Di camino Della casa Non vi è Nessun Passaggio Sul di dietro Dal quale Poter scendere Mentre la gente Saliva le scale Il corpo Di mademoiselle L'Espanier Era stato Cacciato Così Solidamente Dentro Il camino Che per Tirarlo giù Occorse La forza Di quattro O cinque Testimoni Insieme Paul Dumas Medico Depone Depone di essere Stato chiamato All'alba Per esaminare I cadaveri Giacevano Ambe due Sul saccone Del letto Nella camera Dove era stata Trovata Mademoiselle L'Espanier Il corpo Della signorina Presentava Molte Contusioni Ed escoriazioni Che sono Giustificate A sofficienza Dal modo In cui Era stato Spinto Nella canna Del camino La gola Era singolarmente Scorticata Proprio Sotto al mento Si vedevano Sgraffiature Molto profonde Con macchie Livide Prodotte Evidentemente Dalla pressione Delle dita La faccia Era spaventosamente Pallida E i globi Degli occhi Sporgevano Dalle orbite La lingua Era tagliata Nel mezzo Sulla bocca Dello stomaco Appariva Una grossa Contusione Prodotta Apparentemente Dalla pressione Di un ginocchio Il dottor Diumà È d'opinione Che Mademoiselle L'Espanier Sia stata Strangolata Da una O più persone Sconosciute Il cadavere Della madre Era orribilmente Mutilato Le ossa Della gamba E del braccio Destro Erano Più o meno Fracassate La tibia Sinistra Era ridotta In schegge E così Tutte le costole Del lato sinistro Tutto il corpo Appariva Spaventosamente Contuso E illividito Non era Possibile Dire come Fosse stato Colpito Una pesante Clava di legno O una larga Sbarra di ferro Una seggiola Una qualsiasi Arma Grossa E pesante E contundente Avrebbe potuto Produrre Tale effetto Se maneggiata Da un uomo Straordinariamente Forte Era impossibile Che una donna Fosse stata capace Di vibrare Simili colpi Quando il teste Vide il cadavere Il capo Era interamente Staccato Dal corpo E come tutto Il resto Malamente Fracassato La gola Evidentemente Era stata tagliata Con un strumento Affilatissimo Probabilmente Un rasoio Alexandre Etienne Chirurgo È stato chiamato Insieme al dottor Diumà Per visitare I cadaveri Conferma La testimonianza E le opinioni Di questi Nonostante Che siano state Interrogate Varie altre persone Non si è potuto Ottenere Nessun'altra Informazione Di qualche valore Mai assassino Così misterioso E delusivo In tutti i suoi Particolari È stato commesso A Parigi Seppure si tratta D'un assassino La polizia Si trova Assolutamente Fuorviata Cosa insolita In affari Di questo genere Comunque Non vi è L'ombra Di un indizio In vista L'edizione Della sera Del giornale Constatava Che nel quartiere Sand Rock Regnava La più viva Agitazione Si era Nuovamente Visitata La casa E tornati Ad interrogare I testimoni Ma tutto Senza risultato Però Un po' scritto Avvertiva Che Adolf Le Bon Era stato Arrestato E tradotto In carcere Sebbene Nulla apparisse Per incriminarlo Oltre a quanto È già stato Narrato Di Opin Pareva Singolarmente Interessato All'andamento Di questa faccenda A giudicare Almeno dai suoi modi Poiché Del resto Non faceva commenti Fu solo dopo La notizia Dell'arresto Di Le Bon Che mi chiese La mia opinione Sul doppio Assassinio Io Non potei far altro Che concordare Con tutta Parigi Nel considerare La cosa Come un insolubile Mistero Non vedevo Alcun mezzo Possibile Di rintracciare Il colpevole Non si deve Giudicare Dai mezzi Possibili Disse Di misure Ma di frequente Accade Che queste Sono così Intempestive E inadatte Allo scopo Da far pensare A monsieur Jourdain Quando chiedeva La sua veste Da camera Per sentir meglio La musica I risultati Così ottenuti Sono spesso Sorprendenti Ma quasi sempre Sono dovuti Soltanto Alla semplice Diligenza E all'attività Dove Queste facoltà Non bastano I loro piani Non riescono Vidocq Per esempio Sapeva indovinare Ed era uomo Di perseveranza Ma non avendo La mente Educata A riflettere Continuamente Sbagliava strada Per lo stesso ardore Delle sue Investigazioni Guastava La sua visione Stando troppo Vicino All'oggetto Poteva forse Vedere Uno O due Punti Con singolare Chiarezza Ma procedendo Così Perdeva Necessariamente Di vista Il problema Nel suo Insieme Si può Anche essere Troppo Profondi La verità Non è sempre In un pozzo Anzi Per quanto riguarda Tra le nozioni Nozioni più importanti Io credo Che sia Invariabilmente Alla superficie Profonde Sono le valli Nelle quali La cerchiamo Ma è sulle cime Della montagna Che essa Viene trovata Dei modi E delle sorgenti Di questa specie Di errori La contemplazione Dei corpi celesti Ci porge Mirabili esempi Dando rapide occhiate A una stella Guardandola Obliquamente Voltando Verso di lei La parte Laterale Della retina Più sensibile Della parte centrale Alla luce Debole La vedrete Distintamente Ne potrete apprezzare Il chiarore Chiarore Che diminuisce Di mano in mano Che voltate Direttamente Lo sguardo Su di lei In questo caso L'occhio È effettivamente Colpito Da un maggior Numero di raggi Ma nel primo Vi è una capacità Più viva E più raffinata Di ricevibilità Con la troppa Profondità Indeboliamo E rendiamo Perplesso Il pensiero Si potrebbe Far scomparire Lo stesso Astro Di venere Dal firmamento Fissandolo Troppo A lungo In modo Troppo Concentrato O in modo Troppo Diretto Per quel Che riguarda Questi assassini Facciamo un esame Da noi Prima di formarci Un'opinione Un'inchiesta Potrà procurarci Qualche distrazione Io trovai Bizzarra Questa espressione Applicata Al caso Ma non dissi Nulla Senza contare Che Le Bon Mi ha Reso Una volta Un servizio Della quale Non gli sono Ingrato Andremo Sul posto Ed esamineremo Tutto Coi nostri Occhi Conosco G Il prefetto Di polizia E non avremmo Difficoltà A ottenere L'autorizzazione Necessaria Avuto il permesso Ci recammo Subito In rue Morgue Questa È una Di quelle Miserabili Viuzze Che congiungono La rue Richelieu Con la rue Saint-Roc Vi arrivamo Di pomeriggio Tardi Essendo Quel quartiere Molto Lontano Da quello Nel quale Abitavamo Noi Trovammo Subito La casa Perché Vi erano Ancora Molte persone Che Con una curiosità Senza scopo Ne guardavano Gli scuri Chiusi Dal marciapiede opposto Era una casa Come ce n'è tante A Parigi Con un grande Androne Alato Del quale Si vedeva Uno sgavuzzino A vetri Munito Di uno sportello Mobile Indicante Una loge De concierge Prima di entrare Percorremmo Tutta la via Piegammo In una traversa E dopo Un'altra svolta Riuscimmo Sul di dietro Dello stabile Intanto Dupin Andava Osservando Tutto il vicinato Come anche La casa Con un'attenta Minuziosità Della quale Non riuscivo A spiegarmi Lo scopo Tornando Sui nostri passi Fummo di nuovo Davanti alla casa Suonammo E dopo Aver mostrato Il nostro permesso Fummo Fatti passare Dagli agenti Di servizio Salimmo Sino alla camera Dove era stato Trovato Il corpo Di mademoiselle L'Espanier E dove Ancora Giacevano I due Cadaveri Come sempre In simili casi Il disordine Della casa Era stato Rispettato Io non vidi Nulla Oltre a quanto Era stato Riportato Dalla Gazette De Tribunaux Dupin Andava minuziosamente Osservando Tutto Senza Eccettuare I corpi Delle vittime Passammo Poi Nelle altre stanze E scendemmo Nel cortile Sempre Accompagnati Da un gendarme L'esame Durò Lungo tempo Ed era notte Quando lasciamo La casa Al ritorno Il mio amico Si fermò Un momento Agli uffici Di un giornale Quotidiano Ho già detto Che le manie Del mio amico Erano svariate E che Je les menage E lo dico In francese Poiché Non esiste Nella nostra lingua L'equivalente Di questa espressione Si mise Dunque In capo Di non voler Più parlare Dell'assassinio Sino Al mezzodì Del giorno dopo Allora Bruscamente Mi domandò Se sul teatro Del delitto Avesse osservato Nulla Di particolare C'era qualche cosa Nel suo modo Di dire Con enfasi La parola Particolare Che Senza sapere Il perché Mi dette Un brivido No Niente Di particolare Risposi Niente Almeno Che non abbiamo Già letto Entrambi Sul giornale La gazette Riprese lui Temo Che non abbia Compreso L'insolito Orrore Di questa faccenda Ma Lasciamo andare Le inutili opinioni Di quel foglio Mi è ora chiaro Che questo mistero Viene considerato Come insolubile Per la ragione stessa Che avrebbe dovuto Farlo ritenere Di facile soluzione Voglio dire Per il carattere U3 Dei suoi particolari La polizia È fuorviata Dall'assenza Apparente Di un motivo Non già Dell'assassinio In se stesso Ma dall'atrocità Dell'assassinio Sono anche Confusi Dall'apparente Impossibilità Di far conciliare Le voci udite A disputarsi Col fatto Di non aver trovato In casa Nessuno Oltre all'assassinata Mademoiselle L'Espanier E col fatto Che non vi fosse In casa Alcun modo Di uscire Senza essere visto Da coloro Che salivano Per le scale Lo strano Disordine Della casa Il corpo Ficcato Con la testa All'ingiù Nella canna Del camino La spaventosa Mutilazione Del corpo Della vecchia signora Queste considerazioni Con quelle dette Aurora E altre Che tralascio Sono bastanti A paralizzare L'azione Degli agenti Di polizia Mettendo Completamente Fuor di strada Il loro Vantato Acume Essi hanno Commesso Il grossolano Ma comunissimo Errore Di confondere Lo straordinario Con l'astruso Ma è appunto Seguendo Queste deviazioni Dal corso Ordinario Delle cose Che la ragione Potrà trovare La sua strada Se lo potrà Nella ricerca Del vero Nelle indagini Di questo genere Non bisogna Chiedersi Tanto Che cosa Sia Successo Quanto Invece Che cosa Sia Successo Che non è Mai successo Prima Insomma La facilità Con la quale Arriverò O sono arrivato A spiegare Il mistero È in ragione Diretta Della sua Insolubilità Agli occhi Della polizia Lo guardavo Parlare Con un muto Stupore Ora Io Aspetto Continuò Egli Dando un'occhiata Alla porta Della nostra Stanza Aspetto Una persona Che Per quanto Forse Non sia L'autrice Di questa Carneficina Deve pure Trovarsi In parte Coinvolta Nella sua Perpetrazione Della parte Più Atroce Del misfatto È probabile Che sia Innocente Spero anzi Di non ingannarmi Su questa Ipotesi Perché Appunto Sud di essa Che fondo La speranza Di sciogliere L'intero Enigma L'aspetto Qui In questa Stanza Da un momento All'altro Può darsi Che non venga È vero Ma è più probabile Che venga Se viene Bisognerà Trattenerla Ecco qui Un paio Di pistole Sappiamo Ambedue Come adoperarle Quando l'occasione Lo vuole Senza troppo Saper Quel che Facevo Né credere Alle mie orecchie Presi le pistole Mentre Dupin Continuava A discorrere Come In soliloquio Ho già Parlato Dei modi Distratti Che egli Prendeva In momenti Simili Il suo Discorso Era rivolto A me Ma la sua Voce Sebbene Non si fosse Alzata Più del Normale Aveva Quell'intonazione Che abitualmente Si prende Discorrendo Con qualcuno Che si trovi A grande A grande Distanza I suoi I suoi occhi Guardavano Con un'espressione Vacua La parete Che le voci Che disputavano Diceva Udite da tutti Coloro che Salivano le scale Non erano Emesse Dalle due Donne È più Che provato Dalle testimonianze Questo ci libera Da ogni dubbio Sulla questione Se la vecchia Possa aver Assassinato La figlia E poi Essersi Uccisa Parlo di questo Punto Più che altro Per amore Di metodo Perché Madame L'Espanier Non avrebbe mai Avuto la forza Di introdurre Il corpo Di sua figlia Nella canna Del camino Come fu trovato E poi La natura Delle ferite Riscontrate Sulla sua persona Esclude Definitivamente L'idea Del suicidio L'assassinio Dunque È stato Commesso Da altri E le voci Che tutti Hanno udito Disputare Erano appunto Le voci Di questi altri Permettetemi ora Di richiamare La vostra attenzione Non già Su tutte le deposizioni Relative a queste voci Ma su quello Che vi era Di singolare Nelle deposizioni Avete notato Nulla di Singolare A tale riguardo Risposi Osservando Che Mentre tutti I testimoni Andavano d'accordo Nel ritenere La voce Grossa Per quella Di un francese Sulla voce Acuta Vi era Molto Disaccordo Codeste Sono le deposizioni Riprese Dupin Ma non Già La singolarità Delle deposizioni Non avete Osservato Nulla di Singolare Eppure Vi era Qualche cosa Da osservare Tutti i testi Come avete Rilevato Erano Erano d'accordo Sulla voce Grossa Ma A riguardo Della voce Acuta La cosa Singolare Consiste Non già Nel loro Disaccordo Ma nel fatto Che nel provarsi A descriverla Un italiano Un inglese Uno spagnolo Un olandese Ne parlano Come della voce Di uno straniero Ognuno di loro È sicuro Che non era La voce Di un suo Compatriota Ognuno La paragona Non già Alla voce Di un individuo La cui lingua Gli sia Familiare Ma proprio Al contrario Il francese Suppone Che sia la voce Di uno spagnolo E anzi Avrebbe potuto Distinguere Qualche parola Se avesse Conosciuto Lo spagnolo L'olandese Afferma Che era La voce Di un francese Ma troviamo Che il teste Non conoscendo Il francese È stato interrogato Per mezzo Di un interprete L'inglese Lo crede La voce Di un tedesco Ma Non capisce Il tedesco Lo spagnolo È sicuro Che quella Era La voce Di un inglese Ma giudica Dall'intonazione Soltanto Poiché Non ha Nessuna Conoscenza Dell'inglese L'italiano La crede La voce Di un russo Ma non ha Mai parlato Con un russo Un altro francese Contrariamente A quello Che ha detto Il primo È sicuro Che la voce Fosse di un italiano Ma non conoscendo Quella lingua Egli Come lo spagnolo Trae la sua Certezza Dall'intonazione Come dunque Doveva essere Singolarmente Insolita Quella voce Per poter Dare origine A testimonianze Di tal genere Nella cui Intonazione Persino i soggetti Delle cinque Grandi nazioni Dell'Europa Non avevano potuto Riconoscere Nulla Che fosse loro Familiare Direte che Poteva essere La voce Di un asiatico O di un africano Né gli asiatici Né gli africani Abbondano A Parigi Ma senza negare La possibilità Del caso Io richiamerò Semplicemente La vostra attenzione Su tre punti Un teste Dice Che la voce Era piuttosto Aspra Che acuta Due altri Dicono Che era Rapida E a scatti Non parole Non suoni Che somigliassero A parole Sono stati Distinti Da alcuno Dei testimoni Non so Continuò Dupin Che impressione Io abbia Potuto fare Sinora Sulla vostra Intelligenza Ma non esito Ad affermare Che anche Da questa parte Delle deposizioni La parte Cioè Relativa Alle due voci La grossa E l'acuta Si possano Trarre Legittime Deduzioni Sufficienti In loro stesse A generare Un sospetto Che indichi La via Da seguire Nelle investigazioni Di questo mistero Ho detto Deduzioni Legittime Ma questa espressione Non rende completamente La mia idea Volevo farvi capire Che queste Deduzioni Sono le sole Possibili E che il sospetto Ne deriva Inevitabilmente Come il solo Risultato Possibile Tuttavia Non vi dirò Subito La natura Di questo Sospetto Desidero Soltanto Che teniate Presente Come per me Era più Che sufficiente Per dare Un carattere Deciso Una tendenza Positiva Alla mia Inchiesta Nella camera E ora Torniamo Col pensiero In quella stanza Quale avrà Da essere La nostra Prima ricerca Il modo Che gli assassini Hanno impiegato Per uscire Non è esagerato Affermare Che né voi Né io Crediamo Agli avvenimenti Soprannaturali Madame E mademoiselle Les Spaniers Non sono state Assassinate Dagli spiriti Gli autori Dell'assassinio Erano esseri Materiali E materialmente Han dovuto Fuggire Ma come Fortunatamente Su questo punto Non c'è Che un solo Modo di ragionare Ed è questo Che ci deve Condurre A una conclusione Positiva Prendiamo Ad esaminare Una per una Tutte le uscite Possibili È chiaro Che gli assassini Erano Nella stanza Dove è stata Trovata Mademoiselle Les Spaniers O perlomeno Nella stanza Accanto Quando la gente Saliva le scale È dunque Soltanto Di queste due stanze Che si deve Cercare le uscite La polizia Ha denudato Pavimenti Soffitti E pareti Nessuna Uscita segreta Potrebbe essere Sfuggita Alla loro Perspicacia Io però Non mi sono fidato Dei loro occhi E ho cercato Con i miei In realtà Non vi erano Uscite segrete Le due porte Che dalle camere Mettono nel corridoio Erano chiuse Sicuramente a chiave E le chiavi Si trovavano Nella parte interna Guardiamo ora Le canne Dei camini Queste Che sono Della larghezza Ordinaria Sino a Otto O dieci piedi Al di sopra Del focolare Diventano Più in là Per tutta La loro lunghezza Così strette Da non lasciar Passare Un grosso gatto Stabilita dunque Assolutamente L'impossibilità Di uscire Nei modi suddetti Non ci resta Da pensare Che alle finestre Da quelle Della stanza Sul davanti Non era possibile Scappare Senza essere visti Dalla folla Della via Gli assassini Quindi Devono essere Passati Da quelle Della stanza Sul di dietro Essendo ora Arrivati A quella Conclusione Per mezzo Di irrefragabili Deduzioni Non è affarnostro Come ragionatori Di rigettarla In ragione Della sua Impossibilità Apparente Non ci resta Perciò Che dimostrare Che tale Apparente Impossibilità In realtà Non esiste Nella camera In parola Ci sono Due finestre Una È ingombrata Da mobili Ed è interamente Visibile La parte Più bassa Dell'altra È nascosta Dalla spalliera Del letto Che è pesantissimo E vi si trova Addossato La prima finestra Fu trovata Solidamente Chiusa Dalla parte Interna Ha resistito A tutti gli sforzi Di coloro Che hanno tentato Di aprirla A sinistra Del telaio Era stato Praticato Un foro Mediante Un succhiello E in esso Conficcato Un grosso chiodo Sin quasi Alla testa Esaminando L'altra finestra Vi si è trovato Un altro chiodo Simile Messo Nello stesso Modo E un vigoroso Tentativo Di aprire Il telaio È parimenti Rimasto Infruttuoso La polizia Si è allora Pienamente convinta Che l'uscita Non si era potuta Effettuare Da quella parte E perciò Si ritenne Superfluo Di togliere I chiodi E di aprire Le finestre Ma Il mio esame Fu Un poco Più minuzioso Appunto Per la ragione Che vi ho data A poc'anzi Sapevo Trattarsi Di un caso Nel quale Bisognava dimostrare Che l'impossibilità Era solo Apparente Continuai a ragionare Così A posteriori Gli assassini Erano fuggiti Da una di quelle finestre Ciò ammesso Non potevano aver Rinchiuso i telai Dalla parte interna Come erano stati trovati Questa considerazione Con la sua evidenza Ha messo fine Alle ricerche Della polizia In questo senso Eppure i telai Erano chiusi Bisogna dunque Che si possano Chiudere da sé Non c'è modo Di sfuggire A questa conclusione Sono andato Alla finestra libera Con qualche difficoltà Ne ho tirato Il chiodo E ho provato Ad aprire Il telaio Come mi aspettavo Ha resistito A tutti i miei sforzi Dunque Vi doveva essere Ora ne ero sicuro Una molla nascosta A questo fatto Che veniva A corroborare Le mie idee Mi convinsi Che le mie premesse Almeno Erano giuste Per quanto Misteriose Apparissero ancora Le circostanze Relative Ai chiodi Un esame Minuzioso Ben presto Mise alla luce La molla segreta La toccai E soddisfatto Della mia scoperta Mi astenni Dall'aprire Il telaio Rimisi allora Il chiodo Al suo posto E l'esaminai Con attenzione Una persona Che uscisse Da quella finestra Avrebbe potuto Richiuderla E la molla Avrebbe giocato Ma il chiodo Non si sarebbe potuto Rimetterlo A posto Questa conclusione Era chiara E restringeva Di nuovo Il campo Delle mie Investigazioni Gli assassini Dovevano essere Fuggiti Dall'altra finestra Supponendo ancora Che le molle Fossero uguali Com'era probabile Bisognava Che ci fosse Una differenza Nei chiodi O almeno Nel modo Di fissarli Salì sul Saccone del letto E al di sopra Della spalliera Trovai subito La molla Che misi in movimento Come avevo supposto Era identica Alla prima Allora Esaminai Il chiodo Era grosso Come quell'altro E in apparenza Fissato Nello stesso modo Conficcato Nel legno Fino alla testa Voi crederete Che mi trovassi In imbarazzo Ma se la pensate così È segno Che vi siete ingannato Sulla natura Delle mie induzioni Per servirmi Di un termine sportivo Non avevo commesso Un solo fallo Non avevo per un solo istante Lasciata la pista Non vi era difetto In alcun anello Della catena Avevo seguito il segreto Sino alla sua ultima fase E questa Era Il chiodo Come ho detto Sotto tutti i punti Di vista Pareva uguale A quello Dell'altra finestra Ma questo fatto Per concludente Che sembrasse Diventava Assolutamente nullo Di fronte Alla considerazione Dominante Che lì Terminava la pista Ci deve essere Qualche cosa Che non va Mi dissi Nel chiodo Lo toccai E la testa Con un quarto Di pollice Circa della sua lunghezza Rimase fra le mie dita Il resto Era rimasto Nel buco Dove si era rotto Era una frattura Vecchia I margini Erano incrostati Di ruggine E apparentemente Era stata prodotta Da una martellata Che aveva fatto Entrare in parte La testa Del chiodo Nel legno Del telaio Rimisi Accuratamente La testa Al suo posto E il chiodo Apparve nuovamente Intatto La fessura Era invisibile Spinsi la molla Alzai Livemente Di qualche pollice Il telaio La testa Del chiodo Venne su Col telaio Senza Uscire Dal buco Richiusi la finestra E il chiodo Riprese Di nuovo L'aspetto Di un chiodo Intero Sino a questo punto L'enigma Era risolto L'assassino Era scappato Dalla finestra Che si apriva Sul letto La finestra Ricadendo Dopo la fuga Da sé O forse Richiusa apposta Era rimasta Fissata Dalla molla L'azione Della molla Era stata presa Dalla polizia Per quella Del chiodo Appunto Per questo Ogni ulteriore Indagine Era stata Giudicata Superflua E ora Si trattava Di sapere In che modo Poteva essere Avvenuta La discesa Su questo punto Mi ero già persuaso Durante il nostro Giro Di ispezione Intorno allo stabile A circa Cinque piedi e mezzo Dalla finestra In parola Passava Una corda Da parafulmine Da questa corda Sarebbe stato impossibile A chiunque Di raggiungere La finestra E da più forte ragione Entrare Nella camera Osservai Però Che le persiane Del quarto piano Erano Di quel genere Speciale Che i falegnami Parigini Chiamano Ferrad Una specie Poco in uso Al giorno d'oggi Ma che si trovano Di frequente Nelle case Di Lione E di Bordeaux Con la differenza Che hanno La parte inferiore Forata O a griglia In modo da dare Alle mani Una buonissima presa Nel nostro caso Queste persiane Hanno più di Tre piedi e mezzo Di larghezza Quando le abbiamo viste Dal dietro Della casa Erano Ambedue Aperte A metà Vale a dire Facevano Un angolo Retto Col muro È probabile Che anche Gli agenti Di polizia Abbiano esaminato Il dietro Della casa Ma nel caso Guardando quelle per Rad Nel senso Della loro larghezza Come senza dubbio Hanno dovuto fare Non hanno badato A questa larghezza O in ogni caso Non vi hanno dato La necessaria importanza Del resto Una volta Resisi conto Che da quella parte Non era possibile Fuggire Era naturale Che facessero Un esame Molto sommario Tuttavia per me Era evidente Che se La persiana Della finestra Aperta Fosse stata Interamente Addossata al muro Sarebbe arrivata A soli due piedi Dalla corta Del parafulmine Risultava inoltre Chiaro Che disponendo Di una forza E di un coraggio Non comuni Per mezzo Di quella corda Si sarebbe potuto Raggiungere La finestra A quella distanza Di due piedi E mezzo Si suppone Ora la persiana Interamente aperta L'assassino L'assassino Avrebbe potuto Trovare Nella parte Forata A griglia Una solida Presa Abbandonando Allora la corda Assicurando bene I piedi Contro il muro E slanciandosi Coraggiosamente Avanti Avrebbe potuto Tirare a sé La persiana In modo da Chiuderla E supponendo E supponendo Che in quel momento La finestra Fosse aperta Sarebbe Perfino Potuto Cadere Nella stanza Vi prego Di tenere Bene in mente Che io parlo Di un'energia Assolutamente Insolita Come necessaria Per riuscire In un'impresa Così difficile E pericolosa Il mio scopo È quello Di provarvi Innanzitutto Che la cosa Si poteva fare Ma In secondo luogo E principalmente Di imprimervi Nella mente La straordinarissima E quasi Soprannaturale Specie Di agilità Che era necessaria Per compierla Servendovi Della lingua giudiziaria Voi direte Senza dubbio Che per fornire La mia prova Fortiori Dovrai piuttosto Svalutare L'energia Che è stata necessaria In questo caso Che sopravvalutarla Questa potrà essere La pratica Dei tribunali Ma non è L'uso Della ragione Il mio oggetto Finale È solamente La verità Il mio scopo Immediato È di spingervi A riavvicinare Questa straordinaria Energia A quella Singolarissima Voce Acuta O aspra A scatti Sulla cui Nazionalità Neanche due Dei testimoni Sono riusciti Ad andare d'accordo E nella cui Enunciazione Non è stato Possibile affermare Il minimo segno Di sillabazione A queste parole Una vaga Informe Idea Del concetto Di Dupin Mi attraversò La mente Mi pareva Di essere Sul punto Di capire Senza però Avere la forza Di capire Come avviene A volte Di trovarsi Sul punto Di ricordarsi Senza però Arrivare A ricordarsi Il mio amico Andò avanti Con la sua Esposizione Avete veduto Disse Come io abbia Trasportato il problema Dal modo di uscita A quello Dell'ingresso Era mia intenzione Riuscire a dare L'idea Che l'una E l'altra Sono avvenute Nella stessa maniera E per la stessa Via Torniamo ora Nell'interno Della stanza Esaminiamo le apparenze Qui I tiretti Del cassettone Dicono Sono stati Saccheggiati Benché vi siano trovati Parecchi capi Di vestiario Non è che Una congettura Molto sciocca Niente di più Come possiamo Sapere Che gli oggetti Trovati nei tiretti Non costituivano Il loro intero Contenuto Madame L'Espanier E sua figlia Conducevano Una vita Ritirata Non vedevano Nessuno Uscivano di rado Non avevano perciò Ragione Di tenere Molti abiti Quelli che si sono trovati Erano di una qualità Altrettanto buona Quanto qualunque altro Che quelle signore Potevano possedere Se un ladro Ne avesse preso qualcuno Perché non prese I migliori Perché non tutto In una parola Perché abbandonare Quattromila franchi In oro Per caricarsi Con un fagotto Di biancheria L'oro È stato Abbandonato Nei sacchetti Sul pavimento Si è trovata Quasi intera La somma Mentovata Dal banchiere Mignot Anche per questo Desidero Dieci volte Dieci volte più Singolari Di questa La consegna Del denaro E l'assassinio Commesso Tre giorni dopo Che è stato ricevuto Si presentano Ad ogni ora Della nostra vita Senza attirare Nemmeno momentaneamente La nostra attenzione In generale In generale Le coincidenze Sono grossi Inciampi Sulla strada Di quel genere Di pensatori Che sono venuti su Senza sapere Una parola Della teoria Della probabilità Teoria Alla quale Gli oggetti Più gloriosi Delle ricerche Umane Sono debitori Delle loro Più gloriose Illustrazioni Nel nostro caso Se l'oro Fosse scomparso Il fatto Che era stato Consegnato Tre giorni prima Avrebbe potuto Essere Qualche cosa Di più Di una coincidenza Avrebbe potuto Corroborare L'idea Del motivo Ma nelle circostanze Reali Del caso Se dobbiamo Prendere L'oro Permovente Del delitto Bisognerebbe Anche supporre Il delinquente Un idiota Così incerto Da abbandonare Insieme L'oro E il movente Del delitto Tenendo dunque Bene in mente I punti Sui quali Ho richiamato La vostra attenzione Quella singolare voce La straordinaria agilità E quella Stupefacente Assenza di motivo In un assassino Di così strana Ferocia Esaminiamo La carneficina In se stessa Abbiamo Una donna Strangolata Con la forza Delle mani E spinta Dentro la canna D'un camino Con la testa All'ingiù Un assassino Comune Non adopera Tali mezzi Per uccidere Meno che mai Dispone In tal modo Del cadavere Nel fatto Di spingere Il corpo Su per il camino Dovete Ammettere Che c'è Qualche cosa Di eccessivamente Utre Qualche cosa Di assolutamente Inconciliabile Con tutto ciò Che è comune Alle azioni Umane Anche supponendo Che gli autori Del delitto Fossero i più Pervertiti Degli uomini Pensate Anche Alla forza Prodigiosa Che deve essere Occorsa Per spingere Quel corpo Su Per un'apertura Simile Con tanta Violenza Che per poi Tirarlo giù Gli sforzi Di varie persone Sono stati Appena sufficienti Ora Portiamo La nostra Attenzione Su altri indizi Di questo Straordinario Vigore Sul Focolare Si sono Trovate Trecce Grosse Trecce Di capelli Grigi Che erano State strappate Con tutte Le radici Sapete La forza Che occorre Per strappare Di testa Anche soltanto 20 o 30 Capelli Riuniti Insieme Voi stesso Avete visto Quelle trecce Alle loro Radici Grumose Orribili A vedersi Erano Attaccati Brandelli Di cuoio Capelluto Prova Irrefragabile Della forza Prodigiosa Che si è dovuta Spiegare Per staccare Forse Mezzo milione Di capelli In una volta Alle loro Radici Grumose Orribili A vedersi Erano Attaccati Brandelli Di cuoio Capelluto Il collo Della vecchia signora Non era semplicemente Tagliato Ma la testa Era staccata Dal corpo Strumento Un semplice Rasoio Osservate Vi prego La ferocia Veramente Bestiale Di questi atti Non parlo Poi dei Lividori Trovati sul corpo Di Madame L'Espanier Il dottor Diumà E il suo Onorevole Collega Etienne Hanno affermato Che furono Prodotti Da un'arma Contundente E sino a questo punto Questi signori Sono stati assolutamente Nel vero L'istrumento Contundente Non è stato altro Che il selciato Del cortile Sulla quale La vittima È piombata Dalla finestra E che s'apre Dietro la spalliera Del letto Questa idea Per semplice Che apparisca Ora È sfuggita Agli agenti Di polizia Per la stessa ragione Che a loro Impedito Di osservare La larghezza Delle persiane Infatti A motivo Dell'affare Dei chiodi Le loro percezioni Erano chiuse Ermeticamente Alla possibilità Che quelle finestre Avessero potuto Essere aperte Se ora Oltre a tutte Queste cose Avete riflettuto A sufficienza Sul bizzarro Disordine Della camera Saremo andati Avanti Abbastanza Per combinare Le idee Di una Meravigliosa Agilità Di una forza Sovrumana Di una ferocia Di bruto Di una carneficina Senza motivo Di un grottesco Nell'orribile Addirittura Fuori della natura Umana E di una voce Dall'intonazione Straniera All'orecchio Di persone Di nazionalità Diverse E priva Di qualsiasi Sillabazione Distinta E intellegibile Che cosa Che cosa Se ne può Ricavare Che impressione Ho fatto Sulla vostra Immaginazione Sentì Un fremito Corrermi Per le ossa Nel mentre Dupin Mi poneva Quella domanda E' un pazzo Risposi Che ha commesso Il delitto Un pazzo Furioso Che è scappato Da qualche Maison de Santé Vicina Da qualche Punto di vista Rispose Dupin La vostra idea Non è da Disprezzarsi Ma la voce Dei pazzi Anche nei momenti Di parossismo Più acuto Non può essere Mai del genere Singolare Di quella Che venne udita Sulle scale I pazzi Appartengono A qualche Nazione E il loro Linguaggio Per quanto Incoerente Possa essere Nelle parole E' pur sempre Un linguaggio Sillabico Inoltre I capelli Di un pazzo Non sono Come quelli Che ho in mano Io In questo momento Guardate Ho tolto Questo ciuffo Dalle dita Rigidite E contratte Di Madame L'Espanier Ditemi ora Che cosa Ne pensate Dupin Esclamai Tutto Stravolto Questi capelli Sono davvero Straordinari Questi Non sono Capelli Umani Non ho mai Detto che lo Fossero Rispose Dupin Come una serie Di macchie Livide Evidentemente Cagionate Dalla pressione Delle dita Vedete Egli continuò Spiegando Il foglio Sul tavolino Davanti a noi Come questo Disegno Dia l'idea D'un pugno Solido E fermo Non c'è segno Che le dita Abbiano scivolato Ognuna Di esse Forse fino al momento Della morte Della vittima Ha mantenuto La terribile presa Dove si era fissata Da prima Provate ora A mettere tutte le dita Nello stesso tempo Sulle impronte Che vedete Provai Ma inutilmente Può darsi Che non si sia Fatto la cosa Come si dovrebbe Riprese Dupin La carta È distesa Su una superficie Piana Mentre la gola È cilindrica Ecco Un pezzo di legno Della grossezza Approssimativa Di un collo umano Obedì Ma la difficoltà Era più Evidente Di prima Questo Dissi Non è Un segno Di una mano Umana Ora Respose Dupin Leggete Questo passo Di Cuvier Era la descrizione Minuziosa Anatomica E generale Del grande Orangutang Fulvo Delle isole Dell'India orientale Tutti Conoscono La statura Gigantesca La forza E l'agilità Prodigiose La ferocia Selvaggia E le facoltà Imitative Di questi animali Mammiferi Di un tratto Mi fu rivelato Tutto l'orrore Dell'assassinio La descrizione Delle dita Disse appena Finito di leggere Si accorda Perfettamente Col vostro disegno Vedo bene Che nessun altro Animale All'infuori D'un orangutang Di questa specie Avrebbe potuto Imprimere Dei segni Come quelli Che avete tracciato Anche questo Ciuffo Di pelo Fulvo È di carattere Identico A quello Della bestia Di Cuvier Ma non so Rendermi conto Dei particolari Di questo Spaventoso Mistero E poi Furono sentite Due voci Una delle quali Apparteneva Senz'altro A un francese È vero E vi ricorderete Di un'espressione Attribuita All'unanimità O quasi Dalle testimonianze A questa voce L'espressione Mon Dieu Queste parole Nelle vostre circostanze Sono state Giustamente Caratterizzate Da uno Dei testimoni Il confettiere Montani Come esprimenti Un rimprovero Una rimostranza È su queste Due parole Perciò Che ho fondato La mia speranza Di sciogliere Completamente L'enigma Un francese Era conoscenza Del delitto È possibile Anzi È più che probabile Che egli sia Innocente Di qualsiasi Partecipazione Alla sanguinosa Faccenda L'orangutang Può essergli Scappato Può darsi Che ne abbia Seguito Le tracce Fino A quella Camera Ma Nell'agitazione Che seguì Era impossibile Che lo potesse Riprendere L'animale È ancora Libero Non seguirò Ora queste Concetture Non ho il diritto Di chiamarle Altrimenti Poiché Le ombre Di riflessione Che servono Loro di base Sono appena sufficienti Per farle rilevare Dalla mia Ragione E non potrei Pretendere Di renderle Intellegibili Alla ragione Altrui Chiamiamole dunque Congetture E consideriamole Per tali Se dunque Come suppongo Il francese In parola È veramente Innocente Di questa atrocità L'annunzio Che ieri sera Quando tornavamo A casa Lasciai Negli uffici Del giornale Le Monde Foglio consacrato Agli interessi Marittimi E molto ricercato Dai marinai Lo dovrebbe Condurre Da noi Mi dette Un giornale E io Lo lessi Trovato Nel Bois De Boulogne La mattina Del Corrente La data Del giorno Del delitto A un'ora Molto mattutina Un enorme Orangutang Fulvo Della specie Di Borneo Il proprietario Che è accertato Essere un marinaio Dell'equipaggio Di una nave Maltese Può riavere L'animale Dopo averne dati I segni Di identificazione Sufficienti E rimborsato Alcune piccole spese Sostenute per la cattura E il mantenimento Indirizzarsi via Numero Fauburg Saint Germain Piano 3 Come avete fatto? Chiesi a Diupi A sapere Che si trattava Di un marinaio E che apparteneva All'equipaggio Di una nave Maltese Non lo so Rispose Non ne sono sicuro Ecco però Un pezzo Di nastro Che a giudicare Dalla forma E dall'aspetto Untuoso Si può concludere Che abbia servito Ad annodare Una Di quelle lunghe Che piacciono Tanto ai marinai Inoltre Il nodo Di questo nastro È di quelli Che pochi Salvo i marinai Sanno fare È un nodo speciale Dei maltesi L'ho raccolto Al piede Della corda Del parafulmine È impossibile Che sia appartenuto Alle vittime In ogni modo Anche se mi fossi Sbagliato Nel dedurre Dal nastro Che il francese Sia un marinaio Di una nave Maltese Il fatto Di averlo detto Nel mio annunzio Non costituisce Un gran male Se ho sbagliato Egli supporrà Che io sia stato Forviato Da qualche circostanza Sulla quale Non gli importerà Granché Di indagare Se ho colto Nel segno Sarà per noi Tanto di guadagnato Il francese Che ha conoscenza Del delitto Ma ne è innocente Esiterà certamente A rispondere Al mio avviso E reclamare Il suo orangutang Ragionerà così Io sono innocente Sono povero E il mio orangutang È una bestia Di gran valore Per uno come me È un patrimonio E per una sciocca Paura di pericolo Dovrei perderlo Ecco che ritorna In mano mia È stato trovato Al bois de Boulogne Molto lontano Dal luogo del delitto Come si potrà Mai sospettare Che una bestia Abbia eseguito Il colpo La polizia È fuorviata Non ha saputo Trovare La più debole pista Quando anche Fossero sulle tracce Dell'animale Sarebbe impossibile Provare Che io Ero a conoscenza Del delitto O farmene colpa Perché ne ero A conoscenza Ma soprattutto Sanno chi sono Chi ha messo L'annunzio Indica me Per il proprietario Della bestia Non so quanto sappia Ma Se io evito Di reclamare La proprietà Di una bestia Di così gran valore Che si sa Appartenermi Può darsi Che attiri Su di essa Il sospetto Non è davvero Mia intenzione Richiamare l'attenzione Su di me O sul mio animale Risponderò All'avviso Del giornale Riprenderò Il mio Rangutang E lo terrò chiuso Sino a quando Non sarà finita Questa faccenda In quel momento Sentimmo Un passo Che saliva Le scale Tenetevi pronto Mi disse Dupin Con le pistole Ma non adoperatele E non fatele vedere Se non ha un mio segno Il portone Era stato lasciato aperto E il visitatore Era potuto entrare Senza suonare Aveva anche salito Vari gradini Ora però Pareva Che esitasse Dopo un poco Lo sentimo Ridiscendere Dupin allora Si diresse Rapidamente Verso la porta Ma l'uomo Aveva ripreso A salire Questa volta Non si fermò Venne su Con decisione E bussò Alla porta Della nostra camera Entrate Disse Dupin Con voce Allegra E cordiale Entrò Un uomo Senza dubbio Era un marinaio Un uomo Alto Robusto E muscoloso Con un'espressione Di audacia Indiavolata Che non era Del tutto Spiacevole La sua faccia Molto abbronzata Dal sole Era mezzo Nascosta Dai favoriti E dai baffi Portava Un grosso Bastone Di quercia Ma non pareva Che avesse Altre armi Ci salutò Goffamente Augurandoci La buona sera Con un accento Francese Che Quantunque Avesse qualcosa Che ricordava La parlata Degli svizzeri Di Noi Châtel Indicava abbastanza L'origine Parigina Sedetevi Amico mio Disse Dupin Suppongo Che siate venuto Per l'orangutang Parola d'onore Quasi quasi Ve lo invidio È di una bellezza Superba E senza dubbio Di un gran valore Quanti anni Credete che abbia? Il marinaio Tirò un gran sospiro Con l'aria Di uno Che vi è sollevato Da un peso Intollerabile E poi Rispose Su un tono sicuro Non lo saprei Proprio E però Non può avere Più di Quattro Cinque anni Lo avete qui? Ah no Qui Non avevamo Posto adatto Per tenerlo È In una scuderia Qui vicino Nella rue du Bourg Potete andare A prenderlo Domani mattina Naturalmente Siete in grado Di provarne La proprietà Sì signore Certamente Sarò dispiacente Di separarmene Disse Dupin Non intendo davvero Aggiunse l'uomo Che abbiate avuto Tanti disturbi Per nulla Non potrete Non potrei aspettarmelo Darò volentieri Una ricompensa Una cosa ragionevole Si intende A chi ha trovato L'animale Bene Rispose Il mio amico Tutto ciò È secondo giustizia Guardiamo un po' Che cosa Mi spetta Ah Ve lo dirò subito Ecco Quale sarà La mia ricompensa Mi direte Tutto quello Che sapete Relativamente Agli assassini Della Rue Morgue Dupin Pronunciò Queste ultime Parole A voce Molto bassa E molto Tranquillamente Con la stessa Calma Si diresse Verso la porta E chiuse A chiave E si mise La chiave In tasca Poi Trasse dal petto Una pistola E senza scomporsi Menomamente La posò Sulla tavola Il marinaio Si fece rosso Come se stesse Per soffocare Si alzò in piedi E afferrò Il suo bastone Ma il momento dopo Tremando violentemente E pallido Come la morte Ricascò Sulla sedia Non disse una parola Lo compiangevo Dal più profondo Del cuore Amico mio Disse Dupin Su un tono mite Vi allarmate Senza motivo Ve lo assicuro Noi non vogliamo Farvi alcun male Sul mio onore Di galantuomo E di francese Vi giuro Che non abbiamo Cattive intenzioni Verso di voi So benissimo Che siete innocente Delle atrocità Di Rumorg Però Non è il caso Di negare Che non vi siete In qualche modo Implicato Da quel che vi ho detto Dovete capire Che su questo affare Ho avuto informazioni Con mezzi Che voi Non avreste Mai potuto Supporre Ora Le cose Stanno così Non avete Fatto nulla Che avreste potuto Evitare Certamente nulla Che vi renda Colpevole Non siete nemmeno Colpevole di furto Mentre Avreste potuto Rubare impunemente Non avete Nulla da nascondere Non ne avete Nessuna ragione D'altra parte Tutti i principi Dell'onore Vi fanno Obbligo Di confessare Quello che sapete In questo momento È in prigione Un innocente Accusato Del delitto Di cui voi Potete indicare L'autore Nel mentre Che Dupin Parlava Il marinaio Aveva riacquistato In gran parte La sua presenza Di spirito Ma L'ardire Del suo modo Di fare Era scomparso Con l'aiuto Di Dio Disse Dopo una piccola Pausa Vi dirò Tutto quello Che so Ma non spero Che voi Ne crederete Nemmeno la metà Sarei uno sciocco Davvero A crederlo Però Sono innocente E se anche Ne andasse Della mia vita Dirò Tutto quello Che mi sta Nel cuore Ecco In sostanza Quello che raccontò Egli Aveva fatto Ultimamente Un viaggio Nell'arcipelago Indiano Una comitiva Di cui egli Faceva parte Sbarcò A Borneo E penetrò Nell'interno Per fare Un'escursione Egli Aveva catturato L'orangutang Con l'aiuto Di un compagno Il compagno Poi Era morto E l'animale Era quindi Rimasto Di sua esclusiva Proprietà L'indomabile Feroce Del prigioniero Gli aveva dato Molti fastidi Durante Il viaggio Di ritorno Egli era riuscito A chiuderlo Nella propria Abitazione A Parigi Dove Per sottrarsi All'insopportabile Curiosità Dei vicini Lo teneva Nascosto Con ogni cura Aspettava Che la bestia Guarisse Di una ferita Al piede Che si era fatta A bordo Con una scheggia Per poi Venderla Tornando a casa La notte O meglio Il mattino Del delitto Da una festa Di marinai Trovò la bestia Nella sua camera Da letto Scappata Dal camerino Accanto Dove egli Credeva Di averla Chiusa Con sicurezza Rasoio Alla mano E col viso Insaponato Quella Si era seduta Davanti a uno Specchio E cercava Di radersi Come senza Dubbio Aveva visto Fare al suo Padrone Guardando dal Buco Della serratura Dello stanzino Atterrito Al trovare Un'arma Così pericolosa Nelle mani D'un animale Tanto feroce E capacissimo Di servirsene Il marinaio Per qualche momento Non aveva saputo Che partito Prendere Di solito Anche nei peggiori Accessi di furore Gli era riuscito Di domare L'animale A colpi Di frusta E anche questa volta Finì per ricorrere A questo partito Ma non appena Lorangutang Vide la frusta Attraversò La porta Della camera Saltò Sulle scale E di lì Approfittando Di una finestra Che disgraziatamente Era aperta Nella via Disperato Il francese Prese Ad inseguirlo La scimmia Sempre col rasoio In mano Ogni tanto Si fermava E voltatasi Faceva dei gesti All'inseguitore Quando poi Si vedeva Quasi raggiunta Riprendeva La corsa La caccia Durò così Molto a lungo Potevano essere Le tre del mattino E le strade Erano Profondamente Tranquille Passando Da un vicolo Dietro La rue Morgue L'attenzione Della bestia Fu attirata Dalla luce Che usciva Dalla finestra Aperta Della camera Di Madame L'Espanier Al quarto piano Della sua casa Correndo Verso lo stabile Vide la corda Vide la corda Del parafulmine Vi si arrampicò Con un'agilità Inconcepibile Afferrò La persiana Che era spinta Completamente Verso il muro E tenendosi a quella Si lanciò Direttamente Sulla spalliera Del letto Tutto questo In meno di un minuto La persiana Era stata Riaperta Dal salto Col quale L'orangutang Si era gettato Nella stanza Il marinaio In questo mentre Era felice E perplesso Nello stesso tempo Aveva buona speranza Di catturare L'animale Che difficilmente Poteva scappare Dalla trappola Nella quale Si era avventurato Poiché Se fosse Ridisceso Con la corda Del parafulmine Gli si sarebbe Potuto chiudere La strada Là Ma D'altra parte Era molto inquieto Per quello Che la bestia Poteva fare Nella casa Quest'ultimo pensiero Lo incitò Ancora A seguire Il fuggiasco Per un marinaio È una cosa Da nulla Arrampicarsi Lungo la corda Di un parafulmine Ma Arrivato All'altezza Della finestra Che era Assai discosta Sulla sua sinistra Egli non poté Più andare avanti Non poté Più fare Altro Che penzolarsi In modo Da gettare Un'occhiata Nell'interno Della stanza Quello che vide Lo fece Quasi venir meno Dal terrore Proprio allora Suonarono Nella notte Le orribili grida Che svegliarono Di soprassalto Gli abitanti Della rue Morgue Madame L'Espanier E sua figlia In vesti Da notte Erano Apparentemente Occupate A mettere A posto Qualche carta Nella cassaforte Già mentovata Che era Stata trascinata Nel mezzo Della stanza La cassaforte Era aperta E il suo contenuto Si trovava Sparso Per il pavimento Le vittime Dovevano essere sedute Con le spalle Alla finestra E A giudicare Dal tempo Trascorso Fra l'ingresso Della bestia E le prime grida È probabile Che non si accorgessero Subito di essa Lo sbattere Della persiana Sarà stato Da loro Attribuito Al vento Quando il marinaio Guardò Nella stanza Il gigantesco Animale Aveva afferrato Madame L'Espanier Per i capelli Che aveva Disciolti Perché se li era Pettinati E andava agitando Il rasoio Intorno alla sua faccia Imitando i movimenti Di un barbiere La figlia Era prostrata A terra Immobile Era svenuta Le grida E il dibattersi Della vecchia signora Intanto le venivano Strappati i capelli Dal capo Ebbero l'effetto Di cambiare In furore Le disposizioni Probabilmente pacifiche Dell'orangutang Con un colpo Deciso Del suo braccio Muscoloso Le staccò Quasi la testa Dal busto La vista del sangue Mutò la sua rabbia In frenesia Digregnando i denti E mandando Fiamme dagli occhi Si gettò allora Sul corpo Della giovinetta E affondò Le terribili Granfie Nella sua gola Senza Allentare la stretta Fino a quando Non fu spirata Fu allora Che i suoi occhi Spalancati E selvaggi Si voltarono Verso la spalliera Del letto Sopra la quale Appariva La faccia Del padrone Irrigidita Dal terrore La furia Della bestia Che senza dubbio Si ricordava Della temuta frusta Si cambiò Immediatamente In paura Sapendo bene Di aver meritato Un castigo Parve che volesse Nascondere Il suo sanguinoso Operato In un accesso D'agitazione Nervosa Si mise A saltare Per la camera Rovesciando E spezzando I mobili A ogni movimento E asportando I materassi Dal letto In conclusione Prima ferrò Il corpo Della ragazza E lo spinse Su per la canna Del camino Nella positura In cui venne ritrovato Poi Quello della vecchia E lo gettò A capo Fitto Dalla finestra Appena la scimmia S'avvicinò Alla finestra Col suo Mutilato Fardello Il marinaio Esterrefatto Si ritrasse Alla corda Lungo la quale Si lasciò Scivolare E corse A rifugiarsi Subito In casa sua Atterrito Dalle conseguenze Della carneficina Senza più Preoccuparsi Nel suo terrore Di cosa sarebbe Avvenuto Dell'orangutang Le voci Udite Dalla gente Per le scale Erano Le sue Esclamazioni D'orrore E di spavento Mescolate Agli urli Diabolici Della bestia Non mi resta Quasi altro Da aggiungere L'orangutang Deve essere Fuggito Dalla camera Per mezzo Della corda Del parafulmine Proprio prima Che la porta Della camera Venisse sfondata E nel passare Attraverso Alla finestra Deve averla Richiusa Fu poi Catturato Dallo stesso Proprietario Che ne ricavò Una forte somma Cedendolo Alla jardin De plan Le bon Fu immediatamente Messo in libertà Non appena Le circostanze Condite Di qualche Commentario Da du pain Furono da noi Esposte Al bureau Del prefetto Di polizia Questo funzionario Per quanto Benevolmente Disposto Verso Il mio amico Non poteva Però nascondere Il suo dispiacere Per la piega Che aveva preso L'affare E si lasciò Sfuggire Qualche sarcastica Osservazione Su quanto Sarebbe stato Desiderabile Che ognuno Si occupasse Delle proprie Faccende Lasciatelo dire Concluse Di pain Che non aveva Giudicato Opportuno Ribattere A quelle osservazioni Lasciatelo Discorrere Si alleggerirà La coscienza Mi basta Averlo battuto Sul suo stesso Terreno Non di meno Non c'è poi Tanto da stupirsi Che egli Non abbia saputo Risolvere Questo mistero È un uomo A dire il vero Un po' troppo Astuto Per essere profondo La sua scienza Non ha base È tutto testa E non ha corpo Come le immagini Della dea Laverna O se preferite Tutto testa E spalle Come un merluzzo Ma dopo tutto È un brav'uomo Mi piace Specialmente Per un certo Magistrale Colpo di Bernoccolo Al quale deve la sua fama D'uomo D'ingegno Voglio dire Il modo che ha Dénierse chi è Ed espliquerse chi ne pa' Nota 2 Rousseau Nouvelle Louise Nota di Poe Titolo Gli assassini Della rue Morgue Autore Edgar Allan Poe Traduttore Delfino Cinelli Digitalizzazione Di Katia Righi Revisione Revisione Di Paolo Oliva E Giulio Mazzolini Impaginazione Di Katia Righi E Anna Mate Pubblicazione Di Katia Righi E Marco Calvo Lettura Di Mela Boev www.melaboev.com 2019 Il testo utilizzato per questa lettura proviene dalla biblioteca di Liber Liber Audiolibro realizzato per il progetto Libro Parlato Sito internet www.liberliber.it www. mitadvailersato.co.nl www.liber- peut-ict